I docenti dell'Istituto Tecnico Professionale Benelli di Pesaro, che sono presenti in tribuna. Se non ci sono altri iscritti a parlare, pongo in votazione l'articolo 8, la votazione aperta. Chi non riesce a votare? Rizzetto, ha votato? Ok, Greco, bene, altri? La votazione è chiusa. Presenti 406, votanti 270, astenuti 136, maggioranza 136, fuori 267, contrari 3, la Camera approva. Siamo all'aggiuntivo 8.050, Altieri. Se nessuno chiede di intervenire, parere contrario, oratore del Governo, la votazione aperta. Chi non riesce a votare? Dilello, Matarrese. Bene, Matarrese ha votato, Dilello? Ok, altri? Non vedo mani alzate, la votazione è chiusa. Presenti 391, votanti 326, tenuti 165, maggioranza 164, fuori 62, contrari 264, la Camera respinge. Siamo ora agli identici 8.06 Simonetti e 8.051 Polverini. Se nessuno chiede di intervenire, parere contraria, oratore del Governo, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Dilello. Ragazzi. Altri? Ha votato bene. Marco Di Stefano. Guttgeld. Provate a votare. Guttgeld e Di Stefano Marco. Ci siamo? No, onore Guttgeld. Ok. La votazione è... Onore Guttgeld, voti però. Buonanotte. Bene, la votazione è chiuse. Presenti 403, votanti 399, tenuti 4, maggioranza 200, fuori 57, contrari 342, la Camera respinge. Siamo all'8.01 Placido. Se nessuno chiede di intervenire, parere contraria, oratore del Governo, la quinta Commissione, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Ravetto. Di Lello. Di Lello. Non è Di Lello? Ecco. Di Salvo. Di Salvo. Coppola. Tripiedi. Tancredi. Tancredi. Catania. Bene. Tartaglione. Colleghi, però restate in aula se è possibile, se no... Bene, la votazione è chiuse. Presenti 400 votanti, 365, assinuti 35, maggioranza 183, favore di 117, contrari 248, la Camera respinge. 8.03 Placido. Se nessuno chiede di intervenire, parere contraria, oratore del Governo, la quinta Commissione, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Non vedo mani alzate? Sì. Fini. Giuditta. Bene. Altri? La votazione è chiusa. Presenti 399, votanti 397, astenuti 2, maggioranza 199, favore di 145, contrari 252, la Camera respinge. 8.07 Simonetti. Se nessuno chiede di intervenire, parere contraria, oratore del Governo, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Lomonte. Malpezzi. Malpezzi ha votato. Altri? Calabro. Biancofiore. Carloni. Carloni ha votato. Aspettiamo il Biancofiore. Bene. Altri? La votazione è chiusa. Presenti 402, votanti 400, astenuti 2, maggioranza 201, favore di 58, contrari 342, la Camera respinge. 8.08 Placido. Prego, non lo è Placido. L'emendamento ha l'intento di rafforzare il sistema premiale che sostiene i denuncianti. Attendo, non lo è Placido. Colleghi tutti, possiamo abbassare leggermente il tono della voce? Grazie. Prego. L'emendamento ha l'intenzione di rafforzare il sistema premiale a sostegno dei denuncianti. Noi riteniamo, e non c'è bisogno di argomentare più lungamente di così, che una parte essenziale della tenuta di tutto il meccanismo dipende dal fatto che chi denuncia non sia ricattabile o sottoponibile a ricatti. Se viene meno questo elemento, obiettivamente, si indebolisce tutta l'impalcatura del provvedimento. Grazie. Altri che intendono intervenire? Non mi pare. Parere contrario. Relatore e Governo. Quinta Commissione. 8.08 Placido. La votazione è aperta.